Il tempo è quello di, ovviamente, inserire nel cartellone dei concerti un po' di Mozart, che non guasta mai, ma anche di metterlo un po', voglio dire a confronto, ma di far vedere che cosa c'era nel periodo di Mozart, prima, durante o dopo, qual era la situazione musicale per comprendere di più, se vogliamo, Mozart, ma comprendere anche quello che era l'ambiente culturale, che certamente non era come quella di oggi, dove, tutto sommato, chiunque può praticare la musica, può studiare la musica, può suonare, all'epoca forse era più confinata nei salotti, o nelle... e ho trovato interessante, questa volta, tirar fuori questo personaggio che tutto si potrebbe dire, meno che fosse musicista. Sì, sì, però lo era, e come se lo era, insomma. Beh, allora, intanto, buonasera, bentrovati, io sono molto contenta di raccontarvi questo programma, perché, allora, oggi è una giornata un po' particolare, ne so che parliamo di Mozart, ma indirettamente parliamo anche di Lorenzo da Ponte, Lorenzo da Ponte è stato il librettista di Mozart e oggi è il suo compleanno. 10 marzo 1749, Lorenzo da Ponte è una figura che mi è molto cara, un po' per destinazione geografica, nasce a Vittorio Veneto, cioè a Ceneda, l'attuale a Vittorio Veneto, quindi in provincia di Treviso, e condivide con Mozart gli anni del grande successo, a Vienna, agli anni delle nozze di Figaro, del Don Giovanni e dei così fantute della cosiddetta trilogia italiana. E sono gli anni in cui, appunto, nasce, tra l'altro, il primo numero di questo programma che ascolteremo. Però il ragionamento di questa sera è un ragionamento su due figure completamente diverse, che ci raccontano un modo di fare una musica completamente diverso, perché noi abbiamo Mozart colto nel momento più alto della sua vita, che però non fu una vita felice, non fu una vita... e ancora oggi ci chiediamo se veramente fu una vita musicalmente felice durante, appunto, lo svolgiosi concreto della sua vita, perché poi del post noi sappiamo della grande fama di Mozart. D'altro canto, vi racconto con grande piacere un personaggio incredibile, un personaggio incredibile, un condottiero, un eroe, un uomo d'armi, un uomo che muore a 34 anni in una delle battaglie più importanti, sul campo proprio, delle battaglie più importanti combattute dalla, diciamo, dalla Germania, dalla Prussia e dagli Asburgo contro Napoleone, ma che in realtà è uno straordinario musicista, di cui noi conserviamo 13 numeri d'opera e sentiremo oggi uno di questi, ma che ci viene consegnato come uno dei più straordinari pianeti della sua epoca. Se è vero che Beethoven, che come sapete non era proprio una persona facilissima anche nei giudizi, ci dice ma questo non suona come un aristocratico o come un principe, questo suona come un grande pianista. Quindi, diciamo, questo Luigi Ferdinando, principe di Prussia, è una epifania nell'Ottocento, cioè si manifesta come una prima figura di eroe romantico. Intanto è bello, è bello, vediamo questo ritratto di questo giovane biondo, bello, affascinante, come dire, principe anche dei salotti, cresce in un milieu culturale molto alto, poi ha un talento straordinario per la musica, cioè si afferma come un pianista soprattutto, un grande virtuoso del pianoforte, effettivamente le sue opere hanno sempre il pianoforte come strumento principale. E poi è un uomo di coraggio, è uno che aveva subito capito che Napoleone rappresentava una grandissima minaccia per, diciamo, in qualche modo l'anziano regime, per cui Pagliasburgo e per la Prussia e aveva capito che in realtà questa parte di Europa stava sottovalutando moltissimo questa minaccia. Predestinazione, come dire, presentimento, destino, sta di fatto che il nostro Luigi Ferdinando cade sul campo, ucciso a morte da un ufficiale degli Ussari napoleonici nel 1806. Vi dicevo, 34 anni di vita è una vita che ho voluto proprio indagare e raccontarvi e troverete anche nel programma di sala perché come figura musicale è tutto sommato relativamente sconosciuta, per cui questo programma ci dà la possibilità di raccontare un personaggio che sta proprio a cavallo tra il 700 e l'800. È una figura che a un certo punto diventa leggendaria, se è vero che Liszt gli dedica un'opera, se è vero che Schumann vede in lui il primo vero musicista romanzico. Ma facciamo un passo indietro perché questo programma parte da Mozart, parte da un quartetto un po' insolito di Mozart che vede la luce più o meno negli anni delle nozze di Figaro, quindi siamo più o meno tra il 1785 e l'86. Cosa succede in quegli anni nella vita di Mozart? Voi sapete che Mozart nasce a Salisburgo, che è un po' una periferia dell'impero nel 56 e sembra avviato alla carriera di suo padre, cioè a fare il musicista dipendente, l'impiegato di corte sostanzialmente. Non timbra fisicamente il cartellino, ma lo timbra a suon di messe che deve scrivere per ogni domenica, di opere che deve scrivere per la Pasqua e per il Natale, insomma una vita che poteva andare bene a moltissimi musicisti dell'epoca perché ti garantiva una relativa tranquillità economica, ma che non va bene a Mozart. Mozart già da bambino ci prova in tutti i modi ad affrancarsi da questo gioco, perché lui lo sente proprio come un gioco, della corte del vescovo Colloredo di Salisburgo, quindi comincia a fare dei viaggi in Italia con il padre sperando di trovare un nuovo mecenato, un nuovo protettore, insomma cerca in tutti i modi di lasciare Salisburgo, finché quando un po' tutti i suoi progetti naufragano nel 1781 prende una decisione rivoluzionaria e anche difficile, cioè che deciderà comunque della seconda parte della sua vita. Nel 1781 lui dice io cara Salisburgo, città provinciale che musicalmente non mi può dare più nulla, ti saluto, poi sapete che la leggenda ci ha raccontato del padre Mozart avendo il carattere che aveva fu accomodato, come dire, non tanto delicatamente da un personaggio dello staff, dei Colloredo con un bel calcio nel sedere, questo ci raccontano le cronache, fuori da Salisburgo e con questa bella pedata arriva Vienna, Vienna che era una delle grandi capitali della musica ma era una metropoli in cui il signor Mozart era assolutamente nessuno. Mozart esce dalla condizione tutto sommato garantita di dipendente, frustrante, routinier come volete chiamarla, di dipendente della musica ma è un dipendente e diventa il primo, la prima partita IVA se vogliamo chiamarla così, della musica in una Vienna certo piena di possibilità ma anche piena di concorrenza e quindi dal 1781 Mozart cosa comincia a fare? A sgomitare perché deve cercare di imporre se stesso il proprio talento ad una società aristocratica ma soprattutto alla corte. E come si fa? Eh, ma è facile perché tu non hai gli agganci giusti, non conosci le persone giuste, non hai le relazioni giuste allora si rivolge a una nostra comune conoscenza, un certo signor Salieri che noi abbiamo avuto modo nella nostra vita di indagare molto perché il qui presente maestro è stato per lunghi anni direttore artistico del teatro Legnago di Salieri e abbiamo avuto modo di indagare questo rapporto, Salieri a Vienna era il grande sovrintendente della corte appunto della corte viennese quindi era l'uomo introdotto, l'uomo che poteva aiutarlo a trovare un suo ruolo ma non c'era solo Salieri perché Mozart aveva bisogno fondamentalmente di vivere e quindi aveva bisogno di crearsi tutta una rete di mecenati privati. Questi mecenati privati erano personaggi delle alte famiglie della risocrazia viennese che potevano sostenerlo come? Sostenendolo concretamente nei suoi concerti, il famoso modus dei concerti per sottoscrizione cioè io mi fido di te, so che tu sei bravo, nel momento in cui tu organizzi un concerto e prendi in affitto una sala io ti garantisco un fee, cioè una quota che ti può aiutare a rientrare delle spese e a pagare la tua performance professionale quindi i concerti per sottoscrizione, una sorta di abbonamento diciamo così un altro modo era dare lezioni ma sappiamo che Mozart come insegnante era piuttosto, come possiamo dire, scarso nel senso che non aveva la pazienza e anche se vogliamo dire un po' la vocazione oppure l'altro modo era quello di accreditarsi a corte e di avere un ruolo, un ruolo diciamo musicale tale e per cui potesse diventare a sua volta dipendente della corte ma a Vienna era molto più difficile che a Sarisburgo Mozart ci proverà in tutti i modi e grazie a Salieri diventerà, avrà questo ruolo di musicista di corte il musicista di corte di fatto non era il Kappelmeister, cioè il Kappelmeister era il maestro di cappella il direttore artistico della corte stipendiato in realtà Mozart che obbligo aveva? Aveva l'obbligo di scrivere alcune opere per la corte nello specifico sono gli anni in cui Mozart concepisce i suoi tre più grandi capolavori e lo fa aiutato da Lorenzo da Ponte Lorenzo da Ponte che era arrivato a Vienna più o meno negli stessi anni che aveva sdomitato allo stesso modo di Mozart ma appunto cercando di accreditarsi come poeta di corte e grazie a cui si creerà questo incontro anche un po' se volete magico tra due ingegni simili che porterà alla creazione della trilogia italiana quindi Nozze di Figaro, Don Giovanni e così fan tutte sono dieci anni perché poi Mozart muore, 1791, Salieri viene allontanato dalla corte per una serie di problemi tra cui questa sua relazione con Adriana dal bene Ferrarelli che fu appunto la prima fior di Ligi e quindi insomma un mix diciamo di problemi di tipo professionale, politico, relazionale ma poi Lorenzo da Ponte si sposterà a Londra dove diventerà editore musicale e poi sarà il primo diciamo intellettuale europeo a varcare l'Atlantico questo è straordinario arriverà a New York, sarà il primo lettore d'italiano alla Columbia University cioè Lorenzo da Ponte è un personaggio incredibile, è il primo intellettuale moderno veramente perché diciamo l'Europa era considerata prodo ma nello stesso tempo limite nel senso che per gli intellettuali del Settecento e dell'inizio dell'Ottocento non c'era niente oltre all'Europa è incredibile che Lorenzo da Ponte alla fine del Settecento intuisca che oltre all'Atlantico esiste un mondo e non sarà soltanto il lettore della Columbia University lui porterà le opere di Mozart e di Rossini a New York allestite nei primi teatri rudimentali fatti appunto in legno quindi un personaggio vabbè ma Lorenzo da Ponte è Lorenzo da Ponte lo cito perché è il suo compleanno, mi piaceva poi perché è molto legato a Mozart e è molto legato a Mozart negli anni in cui compone appunto questo quartetto che andremmo a sentire l'altra questione che riguarda Mozart in questo periodo e qui veniamo all'opera era come relazionarsi ad un mondo musicale composto non soltanto di fruitori come potreste essere voi cioè di un pubblico che viene a concerto ama la musica e l'apprezza ma di fruitori musicisti amatori perché gli aristocratici che notoriamente avendo diciamo un diritto divino anche sulle faccende economiche non avevano il bisogno come possiamo dire dozzinale che abbiamo noi come mortali di lavorare per vivere e quindi avevano del tempo da impiegare nel famoso ozium quindi c'era chi amava la letteratura, chi amava le arti figurative e chi amava la musica per cui c'era un gran numero nella capitale di dilettanti della musica di buoni dilettanti della musica e quindi i musicisti professionisti potevano avere un'aggiunta diciamo un'entrata aggiuntiva scrivendo musica proprio da destinare a questi salotti e a questi dilettanti di livello possiamo dire medio alto Mozart compone questo lavoro che è il secondo di una serie che avrebbe dovuto vedere tra i lavori proprio per questo pubblico, per questi destinatari cioè per i nobili che erano sufficientemente bravi da poter gestire la pratica quartettistica divertendosi ma non così bravi dall'essere dei professionisti a cui potevano venire facilmente anche i passi più arditi solo che Mozart diciamo proprio per natura è uno che cerca di spingere un po' sui limiti e lo fa anche nella musica considerata tradizionalmente musica da diletto musica da amateur in questo quartetto che noi ascolteremo è con Mozart insomma tratta le varie parti è un quartetto intanto un po' insolito perché vede il pianoforte quindi non è la struttura tipica del quartetto d'archi e poi perché effettivamente la scrittura è una scrittura molto più complessa anche dal punto di vista, come possiamo dire, contrappuntistico per cui che cosa succede? che questo editore che gli aveva commissionato questi lavori questo editore Hoffmeister quando nel 1785 pubblica il primo e vede che non ha tanto giro perché la gente lo compra poi non riesce a suonarlo perché è troppo difficile e quindi si scoraggia dice vabbè, ok io ti avevo pagato per tre opere facciamo che basta la prima però siccome gli aveva già dato un acconto anche per la seconda e Mozart sostanzialmente aveva completato anche la seconda resta questa seconda che è quella che noi sentiremo resta questa seconda che non viene editata da Hoffmeister ma verrà poi editata un anno dopo da Artaria che invece era un editore un pochettino più aperto un pochettino più diciamo anche progressista quindi diciamo opera che nasce per un pubblico di amateur risultato fallimento nel senso che gli amateur dicono ma io non ce la faccio sono da questa roba non mi piace non la capisco ed è un lavoro strano come dice la critica perché essendo proprio di difficile concezione se tu non hai un vero esecutore anche per il pubblico è di difficile recezione perché per Mozart di fatto la musica è un po' assoluta cioè non esiste una musica che io compongo per un amateur cioè non esiste la musica di serie A e la musica di serie B quindi questo era proprio il limite e la grandezza di Mozart ma in questo quartetto che avrà un numero di catalogo appena ulteriore rispetto alla notte di Figaro respira anche questo periodo di cui vi dicevo Mozart che arriva un po' diciamo da Salisburgo tipo scappato di casa che sposa un anno dopo Costanze Weber perché di fatto la famiglia Weber era un po' il suo unico approdo a Vienna facciamo un passo indietro a Salisburgo Mozart conosce Aloisia Weber Aloisia Weber era una straordinaria cantante di cui si innamora pazzamente Aloisia gli spezza il cuore lui arriva a Vienna sperando di ritrovarla di rinsaldare questo legame di avere appunto un appoggio sicuro anche musicalmente a Vienna si prendono due di picche cosmico e cosa fa? questo ci ricorda un pochettino anche Italo Svevo sposa la sorella minore e la sorella minore Costanze Weber diciamo che nel bene e nel male come si dice nel matrimonio effettivamente gli rimane fedele compagna per tutta la vita quindi diciamo negli anni successivi tramite Salieri tramite un po' i Weber riesce in qualche modo ad acclimatarsi e nonostante questo quartetto non sia esattamente un trionfo testimonia un'epoca felice della sua vita perché finalmente in modo si è riuscito a fare quello che voleva accreditarsi a corte e cominciare a scrivere una grande opera per la corte il soggetto che sceglie come sappiamo è un soggetto assolutamente controverso perché poteva mettere gli occhi su tutte le storie del mondo sceglie Figaro cioè sceglie l'opera di Beaumarchais che ci parla di un barbiere che sostanzialmente si oppone al suo padrone insomma la trilogia di Figaro in Francia aveva in qualche modo già fatto scattare un po' l'aria elettrica della rivoluzione era stata ovviamente bandita dalle scene francesi era stata bandita dalle scene viennesi ma poi Mozart riesce a recuperare la grazia ai Manguel Schikaneder che sarà suo grande amico nonché direttore del teatro Anderpien è il primo papagheno insomma comunque lui tra tutti i soggetti tranquilli che poteva scegliere sceglie Figaro che è il soggetto rivoluzionario per Antonomardia però poi come sappiamo alla folle giornata cioè alle nozze di Figaro nonostante qualche iniziale perplessità anche dell'imperatore vi ricordate quella celebre frase troppe note signor Mozart è un'opera che cambia la storia del teatro musicale del Settecento che preluderà poi appunto a Don Giovanni alle nozze di Figaro e in questo clima anche un po' finalmente come possiamo dire di arrivo per Mozart cioè sono gli anni in cui Mozart dice sono qualcuno sono gli anni in cui a corte è riconosciuto a teatro è riconosciuto insomma sono gli anni belli della vita di Mozart insieme alle nozze di Figaro insieme a questo clima anche un po' di come possiamo dire illuminismo apollineo che ci consegnano le nozze di Figaro nasce questo quartetto che come in tutte le opere di Mozart diciamo di forma concerto, quartetto, sonatistico ha nel tempo adagio nell'andante la sua spina dorsale cioè quegli andanti illuminati di Mozart e Mozart diciamo ha questo grande fuoco in questo momento della vita non durerà appunto è un fuoco che brucia molto velocemente gli anni poi successivi Don Giovanni e così fan tutti saranno poi anni in cui la sua fame in qualche modo si opacizza la sua fortuna a Vienna in qualche modo comincia a scemare e che preludono una morte brutta una morte come dire insordina una morte minore proprio minore e quindi una vita breve che si conclude però con una morte anonima è bruttissima questa immagine di questo corteo di poche persone che accompagna Mozart alla fine dei suoi giorni e di questa fossa comune a me personalmente fa male fisicamente sapere che non abbiamo una tomba sulla quale piangere Mozart perché Mozart è musicalmente il padre di tantissimi di noi e quindi una vita breve una fama grandissima ma la vita una vita come possiamo dire sempre giocata nell'ansia di dimostrare che io sono qualcuno che io valgo no? al contrario dobbiamo dire abbiamo la vita di questo straordinario Luigi Ferdinando principe di Prussia basta qualche anno perché Luigi Ferdinando è più coetaneo di Beethoven considerato che Beethoven nasce nel 70 Luigi Ferdinando nel 72 però cosa condivide Luigi Ferdinando con Mozart la brevità della vita perché anche Luigi Ferdinando muore a 34 anni il talento musicale Luigi Ferdinando è un altro baciato da Dio tra l'altro nipote di un baciato da Dio perché suo nonno voglio dire è stato uno dei più grandi musicisti del settecento ed è stato il musicista che ha ispirato del seicento settecento che ha ispirato l'offerta musicale di Bach insomma voglio dire Federico il Grande Federico del Rosse è stato è stato filosofo musicista condottiero monarca illuminato un personaggio incredibile e questo Luigi Ferdinando che nasce a Berlino nel 1772 da subito dimostra una chiarissima inclinazione non soltanto per la musica ma per la cultura in generale al punto che Cotale Nonno lo diciamo lo indirizza verso la corte dello zio Enrico di Prussia che era un monarco una sorta un principe d'endi che si circondava di intellettuali di pittori che aveva questa orchestra di corte dentro la quale di fatto il nostro principe fa i suoi primi esperimenti musicali sia come pianista sia come compositore ma che soprattutto gli dà questa apertura mentale che lo metterà poi in contatto con la generazione la prima generazione dei filosofi di alisti pensate a Fichte ma pensate anche a personaggi come il poeta Tic pensate anche alla sorella di Mendelssohn che era una grande la sorella di Mendelssohn aveva uno pseudonimo lei si chiamava Dorotea scusate che ho un momento di ma ve lo voglio dire perché è molto molto interessante in questo salotto in che di piacere Dorotea White Dorotea White era in realtà Brandon Mendelssohn anche sulla famiglia Mendelssohn potrei tenervi qua un'ora Moses Mendelssohn grandissimo banchiere ebreo che ha dei figli che sono uno meglio dell'altro noi conosciamo Felix e Fanny Mendelssohn sorella di Felix compositrice straordinaria in un mondo dominato dagli uomini in cui la metà delle sue opere vengono firmate dal fratello ma Dorotea White grande romanziera e drammaturga si chiamava Brandon Mendelssohn ed era la sorella di questi due Tic Fichte quindi cioè il nascente la nascente filosofia idealista cioè quella Germania che tra 700 e 800 sta dando il meglio di sé il nostro Luigi Ferdinando allora cresce come un pianista come un intellettuale però è destinato alla guerra cioè a 18 anni comincia a partecipare alle sue prime campagne in Slesia e diventa leggendario il suo coraggio perché lui principe condottiero in realtà che cosa fa? si sporca le mani cioè lui affronta il fuoco nemico per salvare un soldato semplice austriaco lui prussiano peraltro e quindi la sua leggenda comincia a circolare come di un uomo che in qualche modo spregia la morte Salotti la sua bellezza il suo talento lo rendono cominciano a rendere un personaggio come dire anche molto di moda se vogliamo in una cultura come quella tedesca che tra 700 e 800 va costruendo i suoi miti quindi chi meglio di un personaggio così può incarnare l'eroe romantico e non abbiamo ancora parlato della fine è un musicista è un pianista comincia come interprete per dirvi che impressiona Beethoven che ci scrive non suona come un bravo aristocratico suona come un grande pianista Beethoven lo incontra all'inizio dell'Ottocento e gli dedica anche un'opera quindi insomma il rapporto tra i due era molto molto stretto il grande mentore del principe sarà in realtà Dussek un musicista boemo che sarà il suo insegnante di composizione e che nel 1804 entrerà stabilmente nel suo entourage quindi lui seguiva il principe per dargli nozioni di armonia e di contrapunto anche sul campo di battaglia purtroppo non avrà molto tempo perché il principe due anni dopo muore e quindi non sapremo mai che cosa sarebbe diventato il maturo e vecchio Luigi Ferdinando ma l'entourage di musicisti che come dire ruotano intorno a questa figura del principe mecenate lo fa perché lui è un grande musicista ma lo fa anche perché è un mecenate non è un caso se tanti anni dopo siamo nel 1800 Mozart è morto da nove anni la vedova la famosa Costanza cioè il piano B diciamo di Mozart si avvicina a Luigi Ferdinando per dedicargli alcuni dei concerti di Mozart per pianoforte ed orchestra perché è sempre questo cioè il ricco aristocratico fa il compositore per diletto però l'osmosi positiva è che può essere anche mecenate di compositori di talento che però per censo non hanno quella capacità economica che appunto è richiesta per fare della musica proprio mestiere ed è il motivo per cui Luigi Ferdinando è molto in contatto con Beethoven Beethoven lo rincontra alcuni anni dopo siamo nel 1804 e sappiamo per certo che nella residenza in una delle residenze in Bohemia del principe Lobkowski che è stato uno dei grandi mecenati di Beethoven e divenne amico anche di Luigi Ferdinando Luigi Ferdinando ascolta in anteprima l'eroica di Beethoven e ha una sorta di fascinazione tale alla mitomania nel senso che questi principi erano anche un po' uviziani quindi chiede che gli venga ripetuta due volte l'eroica tanto è vero che questa questa adesione questo amore così folle in contatto di questa sinfonia ha fatto addirittura venire il dubbio che quando Beethoven dedica l'eroica ad un grande spirito caduto in battaglia in realtà non fosse Napoleone questo personaggio ma fosse Luigi Ferdinando perché perché proprio due anni dopo sul campo di battaglia e qui abbiamo se volete la chiusura della costruzione del mito dell'eroe muore a 34 anni in un atto estremo di coraggio in battaglia muore lasciandoci 13 numeri d'opera lasciando una diciamo l'eco della sua figura se è vero che ci sono ancora oggi dei romanzi popolari nell'alta Slesia nella Prussia che ci raccontano le gesta di Luigi Ferdinando e se è vero che tutti i musicisti con cui lui venne in contatto da Duce che fu appunto suo maestro di musica a Beethoven a Liszt quindi parliamo di tanti anni dopo perché l'opera di Liszt insomma sono nel 1842 poi riviste nel 53 gli dedicano dell'opera quindi una figura che influenza in maniera fortissima la nascente cultura romantica Robert Schumann che conoscete naturalmente come compositore ma di cui è giusto è opportuno sapere che fu il primo vero critico musicale della storia e che fu colui che scoprì il talento di Chopin e di Berlioz Robert Schumann di Luigi Ferdinando dice il principe fu il primo autentico musicista romantico proprio perché nella sua vita e nella sua opera seppe tradurre quei valori che erano considerati fondanti dal pensiero romantico quindi la bella morte il grande talento il progressismo perché appunto lui aveva intuito che Napoleone sarebbe stato un grande pericolo e anzi viveva questo si legge nelle sue lettere viveva con profonda frustrazione l'attendismo politico che era stato messo in atto cioè Napoleone andava affrontato e quindi Robert Schumann in lui vede la sintesi dei cardini del pensiero romantico nel concerto che sentiremo scusatemi nel partito che sentiremo questa sera da pianoforte e archi in no minore e che è un lavoro come dire piuttosto complesso voi capirete che questo Luigi Ferdinando era un pianista di livello superiore perché al pianoforte è richiesta comunque una capacità tecnica di un certo punto anche la tonalità che ci viene consegnata del do minore se volete è una tonalità e anche la modalità lo ascolterete questo questo lavoro è una modalità che se non vogliamo definire romantica possiamo assolutamente definire spurnish cioè lo sturmutdrang è quella diciamo momento di rottura barra congiunzione tra questo ideale luminoso apollineo adatto dal settecento e questo tormento questo rigurgito se volete dell'inconscio dell'individualità del sentimento che è proprio della stagione ottocentesca è un momento di trapasto ed è un trapasto che già noi respiriamo in Beethoven e in qualche modo se volete anche Mozart per quello che Mozart e Luigi Ferdinando sono abbastanza vicini a Mozart ha una morte che non è una morte se volete illuminista è una morte già romantica ha una vita già romantica se pensate anche tutte le leggende che lo circondano se pensate ad alcune delle sue opere se pensate un po' anche a Don Giovanni Luigi Ferdinando continua e approfondisce questa linea però porta in luce un altro aspetto che mancava a Mozart l'eroe Mozart nella vita di fatto è un anti-eroe è un campione musicale ma è un anti-eroe Luigi Ferdinando è un eroe e il pensiero romantico ha bisogno di eroi e quindi è la vita e la morte di Luigi Ferdinando che ci consegnano in mano una stagione nuova un respiro completamente nuovo e quindi la bellezza di questo concerto di questa serata è di farci conoscere questa figura apprezzare questa figura nel suo brevissimo passaggio in terra che però ci ha lasciato 13 opere musicali che sono sempre state amate perché le sue opere non hanno effettivamente conosciuto Tramonto mentre la musica di Mozart è una musica che è stata una nuova controversa quella di Luigi Ferdinando no è sempre stata amata e apprezzata e probabilmente anche capita se poi è uscito un po' dal radar della storia della musica è perché l'ottocento e il settecento sono state due stagioni così piene di individualità che insomma cioè non c'era poco spazio per tutti ma noi ringraziamo i concerti di Monfalcone perché ci hanno fatto fermare su questa persona su questa figura e ci lasciano dentro come dire anche un po' rimpianto di sapere che cosa sarebbe stato il cinquantenne Luigi Ferdinando intanto ci godiamo i suoi trent'anni e le sue opere e noi ringraziamo Elena Fellini di questo racconto che ci ha dato così questa chiave di lettura questo ci ha fatto incontrare questo eroe musicista dilettante perché suonava per diletto ma non allo sbaraglio assolutamente dilettante perché suonava per diletto cioè non suonava per vivere questa è la differenza però se noi pensiamo che cosa significhi essere dilettante cioè pensiamo io vi dico una figura per tutti Benedetto Marcello Benedetto Marcello magistrato alle acque della Repubblica Serenissima dilettante di musica perché diciamo che le sue entrate non erano garantite dai concerti che suonava però noi quando pensiamo al dilettante di oggi pensiamo a chi si cementa al karaoke o va a fare i talent perché le storie tristi avrei sempre voluto cantare poi ho fatto l'impiegato all'ipote non so ma ecco ma i dilettanti del settecento erano invece erano grandi musicisti che però per censo per nascita quasi tutti aristocratici nella vita facevano altro l'amateur se volete è il modo migliore di fare la musica perché non hai come dire il logorio della routine potessimo noi vero essere solo amateur ma questo è per ricollocare la figura del dilettante al suo vero ruolo soprattutto con la cultura settecentesca settecentesca insomma adesso noi ci consegniamo questo concerto anche con grande curiosità perché appunto la musica di Luigi Ferrina non è di così consueta esecuzione e quindi veramente grazie alla stagione che ce lo fa riscoprire grazie a tutti grazie a tutti che non è l'eroe in realtà però cioè molti artisti successivamente soprattutto non prima erano artisti poveri un sacco e quindi non mi pare la sua eroicità è un eroicità cioè come dire non visibile non non si mette in mostra ecco però la sua è una vita eroica l'eroismo di guardi io sono una mozartiana proprio cioè per me Mozart c'è forse c'è Mozart e poi c'è Dio non so come dirle forse se posso tradurre quello che lei ha detto e che io di cui sono assolutamente concorde è che è l'eroismo della coerenza nel senso che Mozart ha sempre messo la sua musica davanti a tutto il resto e quindi non è mai stato sul cube delle mode non è mai stato sul cube delle convenzioni non è morto da eroe nel senso io intendo dire che appunto è quello che dicevo prima a me fa male il pensiero che non abbiamo una tono mentre andiamo a Westminster e ci possiamo inchinare davanti alla tomba di Handel e dire tu sei qui cioè le tue ossa le tue cene li posano qui per Mozart non lo possiamo fare proprio perché il suo è stato un tramonto come dire minore sì esattamente mentre invece Luigi Ferdinando è morto in maniera colgorante tanto è vero che la cultura popolare ancora ci racconta nelle ballate popolari la sua vita e la sua morte eroica ma sono d'accordo per me Mozart è assolutamente Dio nel senso che la sua coerenza musicale è qualcosa che va oltre le mode e oltre i tempi io ti ho detto scusate ancora se certo ho detto per le memorie insomma lui si preoccupava costantemente del denaro quindi nell'inizio non parla mai di musica parla del denaro perché aveva una necessità perché non ne aveva doveva pagare l'affitto a lui pure essendo una musicista non so forse non si arredeva neanche il conto a lui di quanto era grande non lo so sono sti soldi penso di no che non sapesse però la sua percorso anziana non mi sa beh guardi è stato a corto di soldi per tutta la vita poverino è stata anche la sua grande tragedia esatto bene comunque intervenite perché mi piace che abbiamo un piano per quanto riguarda Luigi Ferdinando paradossalmente ha avuto la fortuna di morire giovane per questo è stato mitizzato come tutti quelli che sono morti giovani anche ai nostri ai nostri tempi allora guardi io ho titolato questa conferenza gli eroi sono tutti giovani e belli io come amo Mozart amo anche Guccini e poi Guccini scusate anche Guccini ma anche Guccini un po' un G. Morrison nel senso che è una fortuna a volte di morire giovane perché la seconda parte della tua vita chissà cosa sarebbe successo è meno attraente esattamente e noi ce lo ricordiamo così bello biondo come nel suo ritratto ufficiale come nelle poesie che ci raccontano di questo uomo dal fascino incredibile e misterioso ma è stato anche sostenuto però è capito perché non tutti sono merito sa questa è la fortuna di Nassare Aristocratici se nasci nipote di Federico e grande hai qualche chance in più se nasci figlio di Leopold a Salisburgo ne hai qualcuno in me grazie a Salisburgo